Nel momento in cui la mia voce del Titanic viene sfruttata da 25 anni, non è possibile che io per il Titanic abbia guadagnato l'equivalente oggi di 700 euro sul quale ho pagato tasse e IVA, è questo che è assurdo, che non ci sia un compenso equo, però non è che questo deve diventare un problema nazionale o di sciopero, secondo me è un problema privato, se noi non capiamo che firmiamo delle copie private in cui cediamo diritti o liberatori e se noi quelle non le impugniamo per farci valere, siamo dei fessi noi, quindi non è una cosa che voglio l'attenzione dello Stato. No, 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 però è bene sottolinearla perché è un esempio lampante di come, insomma, è uno dei motivi dello sciopero e di come la retribuzione sul lavoro che fate è minimale. Ma vabbè, lo sciopero è nato dal fatto che questo contratto, che dovrebbe tutelare poi le figure più fragili, era fermo dal 2008, per cui è un rinnovo di contratto necessario, poi stanno cambiando tante cose, non si può avere un contratto che non tenga conto e delle liberatorie, delle cessioni di diritti che non tengono conto, dell'intelligenza artificiale, di tante novità, per cui è chiaro che star dietro a quello che succede è questo che è importante e non si può avere la nostra, diciamo, la nostra controparte, cioè quelli che ci pagano, che fa finta che non esistano questi problemi. Ecco, queste sono le ragioni dello sciopero. Però, ripeto, non sono stata tanto in dubbio se fosse giusto o meno, oppure aderito a un video, se fosse giusto o meno far sentire la nostra voce rispetto allo sciopero, che, ripeto, non essendo una categoria che guadagna poco in linea generale, non mi sembra tanto giusto coinvolgere gli utenti. O comunque mi sembra giusto farlo coinvolgendovi nel modo giusto, non... vabbè, insomma, però non lo so, forse sono una voce fuori dal coro, forse sto formulando queste cose per la prima volta in questi mesi e magari non ho ancora ben chiaro io. No, ma abbiamo capito benissimo. No, no, ho capito il senso. La stessa cosa più o meno che sta, beh, un po' differente però che sta succedendo in America, nel senso, non è che stanno fondamentalmente scioperando Brad Pitt, Angelina Jolie, insomma, che si prendono... cioè, che sono miliardari, e altro stanno scioperando quelli che lavorano nell'industria, ma che sono attori magari di teatro, oppure attori di piccoli ruoli, che giustamente dicono, sì, però per tutti... diciamo, parliamo di Hollywood, quindi per tutti i soldi che girano a Hollywood, noi prendiamo forse un 0,5%. Esatto, esatto. Il discorso che è successo a voi qualche mese fa, se girano tanti soldi, io faccio il lavoro, mi faccio anche, diciamo, un bel sedere per farlo, poi mi potresti dare, faccio una cifra stupida, 10.000 euro, me ne dai mille, vedi che non la cosa... Fila, fila ragione. Sì, 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 più o meno è questo, più o meno. Dipendentemente se poi voi guadagnate tanto, poco, eccetera, ma è una questione di serietà poi.